In serata il voto della Camera sul Governo, Conte annuncia taglio dei parlamentari e revisione dei decreti sicurezza. Sentiremo le reazioni. Contiamo di arrivare a buoni risultati in tempi non lunghissimi, così il procuratore sul colpo al posto a Materi Cervignano, in zona tante videocamere, ricavi inflessione così come la fiducia nell'economia italiana nel secondo trimestre dell'anno il commercio soffre, bene invece il turismo. Vertice in comune sull'edilizia scolastica, Fontanini annuncia un nuovo clesso per il Malignani, lavori antisismici invece al Marinelli. Okaka ritrova l'udinese più forte, qui mi sento a casa, detto oggi l'attaccante, anche per questo ho rifiutato varie offerte. Ringrazio la società bianconera. Buonasera dalla redazione di Ud News TV e bentrovati a questa edizione serale del nostro TG in conduzione con me questa sera Nicola Angeli. Buonasera Nicola. Buonasera Angela, buonasera a tutti. E apriamo con la politica questa edizione del nostro notiziario perché Conte alla Camera per la fiducia al suo governo, mentre all'esterno di Montecitorio oggi sono andate in scena le proteste di Lega e di Fratelli d'Italia. Il Premier ha parlato di irresponsabili, manovra impegnativa con lo stop all'IVA e giù al cuneo fiscale. Conte ha sottolineato che il taglio dei parlamentari sarà inserito nel primo calendario utile dai banchi dell'opposizione, Cori, Bibiano, Poltrone ed Elezioni. L'esito della votazione è atteso per le ore 21. Allora la cronaca della giornata di oggi nel primo servizio di David Zanirato. Colleghi, colleghi, colleghi. Alta tensione in aula alla Camera durante la replica del Premier Conte dopo il dibattito sul suo discorso programmatico in vista della fiducia. Dai banchi di Lega e Fratelli d'Italia si sono elevate grida di elezioni e dignità venduto, venduto se orlato ancora dall'opposizione di destra. Avete parlato di tradimento, la replica di Conte, ma permettetemi di dire che conosco la vostra abilità comunicativa, ma ripetere all'infinito queste parole non potrà cambiare la realtà dei fatti. In mattinata il Premier aveva presentato il programma al centro, la legge di bilancio e le politiche migratorie, l'ambiente, i diritti e le riforme in cerca di un rapporto più forte con l'Europa e con più voce in capitolo. Penso anche all'epocale fenomeno migratorio che va gestito con rigore e con responsabilità perseguendo una politica modulata su più livelli, basata su un approccio non più emergenziale ma strutturale, che affronti la questione del suo complesso anche attraverso la definizione di un'organica normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone e l'immigrazione clandestina, ma che nello stesso tempo si dimostri capace di affrontare ben più efficacemente i temi dell'integrazione per coloro che hanno diritto a rimanere e dei ripatri per coloro che non hanno titolo per rimanere. Poi il passaggio sul taglio dei parlamentari. Per quanto riguarda il tema delle riforme costituzionali, è nostra intenzione chiedere l'inserimento nel primo calendario utile della Camera dei Deputati del disegno di legge costituzionale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari. L'esito del voto di fiducia è atteso per le 21, domani si replica al Senato con le medesime modalità. E allora in attesa dei risultati di questo voto di fiducia ci sono già le reazioni dei parlamentari eletti anche in Friuli, Venezia e Giulia. Nicola. Eh sì Angela, partiamo con Deborah Seracchiani che ha emesso un comunicato sui suoi profili social, ha fatto delle direttine da Montecitorio, però le immagini insomma le conosciamo. Però che cosa dice Seracchiani? Conte ha fatto un discorso ambizioso ed equilibrato e le contestazioni scomposte delle opposizioni confermano che abbiamo lanciato una sfida molto alta. Spero che dopo il giorno dello show la destra contribuirà ai lavori in modo più utile. Fa eco a Seracchiani o meglio in contraposizione a Seracchiani Roberto Novelli, parlamentare di Forza Italia che sul suo profilo Twitter scrive che la fiducia è una cosa seria, che si dà alle cose serie richiamando un vecchio spot che passava su Carosello. È vero allora ed è vero ancora oggi. Ci viene chiesto di votare la fiducia al governo Conte 2, Conte Bis, ma non essendo una cosa seria il gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati voterà convintamente no con allegato anche il Carosello della Galbani. Insomma non è che se facciamo pubblicità noi cambia tanto l'impatto commerciale in questo caso. Sulla questione si è espresso anche il consigliere regionale Furio Onsel che ha manifestato delle perplessità, dice sulla sua pagina Facebook. Nei 90 minuti di intervento il presidente del Consiglio Conte ha elencato una grande quantità di punti programmatici tanto condivisibili nella loro finalità quanto vaghi nella loro definizione operativa. Avrei sperato in una maggiore chiarezza sui modi e sui tempi delle riforme, per esempio sul decreto sicurezza, scrive tra le altre cose Furio Onsel. Queste dunque le prime reazioni raccolte sul web. Adesso chiudiamo questa pagina di politica e apriamo quella dedicata alla cronaca con gli aggiornamenti sui danni causati dall'ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione, in particolare nel pomeriggio e nella nottata di ieri. Andiamo a sentire da Francesca Santoro tutti gli ultimi aggiornamenti. Allagamenti, strade interrotte, incidenti. È lunga la lista dei danni dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione nel fine settimana. All'ospedale di Latisana le infiltrazioni d'acqua hanno richiesto nell'area di ossettrice e ginecologia l'intervento del personale che ha posizionato secchi e raccolto calcinacci caduti dal soffitto. Non ci sono stati però problemi per i pazienti. Anche in Tribunale a Udine si sono verificate delle infiltrazioni d'acqua nell'Ala Nuova. Lungo l'autostrada 23 nella notte si è verificato prima un tamponamento all'altezza di Coloredo di Montalbano con feriti portati in ospedale e poi a Donia un uomo ha perso il controllo dell'auto in galleria. Nel territorio regionale le piogge torrenziali temporali hanno causato l'allagamento di strade e sottopassi oltre alla rottura di alberi. Due abitazioni sono state colpite da un fulmine a Udine via Tiepolo e a Orsaria. Così come un traliccio dell'alta tensione lungo la provinciale 42 nel comune di Resiutta e la sezione di Codroipo causando problemi nell'erogazione dell'energia nel primo caso e al traffico ferroviario nel secondo. Alla tisanotta un'auto è rimasta bloccata in mezzo metro d'acqua con una persona a bordo mentre a Paludo una vettura è stata sommersa in un sottopasso. A Taipana sull'ex provinciale un grosso masso è precipitato sulla carreggiata. A Trieste i vigili del fuoco sono intervenuti sulla costiera per valutare la stabilità di una gru. È stato necessario rimuovere alcuni rami per riposizionare il braccio del manufatto. Continuiamo con la cronaca. Si stringe il cerchio attorno alla banda che sabato notte ha saltato il postamat dell'ufficio postale di Cervignano. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona. Ce ne sono diversi, ha sottolineato oggi il procuratore De Nicolo e adesso questi ed altri elementi ovviamente sono sotto indagine da parte degli investigatori. Sentiamo David Zanirato. Continuano serrate le indagini degli inquirenti impegnati nella caccia alla banda criminale che sabato notte ha assaltato il postamat di via Trieste a Cervignano portandosi a casa un bottino di oltre 30 mila euro non esitando a sparare poi prima della fuga contro una guardia giurata. Contiamo di arrivare a buoni risultati in tempi non lunghissimi, ha dichiarato oggi il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo facendo il punto sull'attività inquirente per risalire agli autori una gang di quattro persone armate e incappucciate. Si tratta con ogni probabilità di professionisti di cui non conosciamo ancora la provenienza anche se dalle dichiarazioni rese dalla guardia giurata protagonista del conflitto a fuoco parrebbero di nazionalità italiana. Sono in tanti che si stanno occupando del caso, ha spiegato ancora De Nicolo, stiamo visionando le telecamere di videosorveglianza in zona, fortunatamente ce ne sono molte. Tra gli accertamenti in corso, coordinati dal sostituto procuratore Claudia Finocchiaro ed eseguiti dai carabinieri che conducono le indagini, vi sono quelli sul tipo di esplosivo utilizzato per far esplodere lo sportello e sui bossoli dei proiettili rinvenuti sul posto, in particolare quelli dei due colpi sparati da uno dei banditi verso la guardia giurata giunta sul posto subito dopo l'esplosione. È probabile, ma non ancora certo, ha aggiunto De Nicolo, che si tratti di colpi di Kalashnikov per la potenza dell'esplosione. Sul punto sarà effettuata un'indagine tecnica. I banditi erano fuggiti con 30.000 euro in contanti, mentre all'interno dello sportello, da quanto si è appreso, ne erano conservati circa 80.000. Con la cronaca andiamo adesso sul web, Nicola, c'è un'altra notizia da dare. Sì, due tifosi del Napoli sono stati condannati oggi con il rito abbreviato da parte del GUP del Tribunale di Udine per resistenza dopo essere stati accusati di aver fatto parte di un gruppo di 150 supporter partenopei che nel pre-partita di Udinese-Napoli del 26 novembre 2017 si sarebbero opposti alla polizia che tentava di impedire loro di dirigersi verso la curva nord e di entrare in contatto con i tifosi bianconeri. Si tratta di due giovani, uno di 28 anni, condannato a un anno di reclusione, l'altro di 27, condannato a otto mesi. La difesa aveva chiesto per entrambi la soluzione per non aver commesso il fatto, non essendoci prove del loro coinvolgimento nei tafferugli che erano scoppiati con i poliziotti alle spalle della tribuna centrale prima dell'inizio del match. Continuiamo con la cronaca, andiamo a vedere gli altri fatti della giornata di oggi nelle nostre Flash News curate da Francesca Santoro. È morto all'hospice di via Gervasuta a 82 anni l'architetto Adalberto Burelli, memoria storica di Udine, oltre che grande professionista. Tra i suoi lavori più importanti la costruzione del municipio di Montenars, distrutto del terremoto, la costruzione negli anni 80 del Palazzo Telecom in via Umago a Udine, gli interventi svolti nell'ex cotonificio udinese e il restauro di Palazzo Buffa in via Mercato Vecchio, oltre ai restauri in pubblico della loggia di San Giovanni, del Tempietto dei Caduti e dei Due Mori della Torre dell'Orologio. Burelli non si è dedicato solo all'architettura e alla ricostruzione, ma si è impegnato attivamente anche in politica. È stato consigliere per due mandati, con la lista Innovare con Onsel e nel gruppo Convergenza per Cecotti. Incidente in tarda mattinata a Porcia. Alle 12.20 due auto si sono scontrate in via Ceolini e una è finita a ruota all'aria. Sul posto la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone, che ha messo in sicurezza le macchine e assistito gli automobilisti coinvolti fino all'arrivo dell'ambulanza. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale di Porcia. Ladri in azione, nella notte tra sabato e domenica, nel negozio di panni alimentari di Via Tisanella in località Paludo. I malviventi sono entrati forzando una porta di sicurezza a lato rispetto alla strada principale. Una volta all'interno dell'attività hanno razziato il fondo cassa alcuni alimenti, causando danni per circa 4.500 euro. La titolare del negozio non ha potuto che rivolgersi ai carabinieri della stazione di La Tisana per sporgere denuncia. Un 23-nefgano è stato denunciato dalla polizia perché in ottemperante al provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Trieste. L'uomo è stato fermato in via Oriani ed è stato identificato da personale della squadra volante della Questura, impegnato nel controllo del territorio. E sempre per quanto riguarda la cronaca torniamo in città. Si è parlato molto nei giorni scorsi del sequestro disposto dalla Procura nei confronti di un bar del centro. Nicola ci sono delle novità a proposito. Sì Angela ci sono delle novità importanti per il barlume di Vicolo Silio, l'angolo con via Sarpi. È stato disposto poco ore fa il dissequestro del locale che dallo scorso 23 agosto risultava chiuso su disposizione della Procura e quindi da domani potrà riprendere la sua attività regolarmente. Poi ci spostiamo nella pedemontana della provincia di Pordenone con un incidente a Fanna. I vigili del fuoco del distaccamento di Maniago sono intervenuti per un incidente che ha coinvolto tre vetture sulla strada regionale 464 che collega Maniago con Spilimbergo all'altezza del ristorante Edelweiss. Una vittura è finita nel fosso ed è rimasta bloccata al centro della carreggiata mentre i feriti sono stati tre in forma lieve sul posto. I vigili del fuoco del distaccamento di Maniago che hanno collaborato con il personale del 118 e messo in sicurezza i veicoli per i rilievi e gestire la viabilità sono intervenute le pattuglie dei carabinieri di Maniago e di Spilimbergo. Grazie Nicola. Noi proseguiamo con l'economia perché oggi in Camera di Commercio a Udine sono stati presentati i dati sull'andamento delle imprese del settore terziario nel secondo trimestre del 2019. I dati non sono molto positivi perché per quanto riguarda il commercio dai numeri viene confermata la difficoltà che sta attraversando il settore, un settore in crisi soprattutto per quanto riguarda il commercio al dettaglio. Più positivi invece i dati riguardanti il turismo con i ricavi in crescita. È un settore questo che si conferma trainante. Monica Nardini ha sentito questa mattina il direttore scientifico di Format Research, l'istituto che ha curato per la Camera di Commercio di Udine Pordenone questa indagine. Sentiamo allora le sue parole. C'è una riduzione del clima di fiducia delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi in Fulio Venezia Giulia. Ho testimonia anche la previsione per la fine dell'estate al 30 settembre. In realtà il dato è diverso a seconda del settore di attività economica. La riduzione del clima di fiducia si accompagna nella riduzione dei ricavi, in particolare per le imprese del commercio, del commercio al dettaglio. Il turismo invece va in modo molto diverso. Il turismo oggettivamente si sta rivelando una componente trainante dell'economia della regione. Alberghi, bar, ristoranti sono riusciti ad avvantaggiarsi delle enorme esploade di turisti, in particolare fortissime la componente straniera, dei primi sei mesi dell'anno. Anche la stagione estiva è presto per dirlo perché siamo ancora ai primi giorni del mese di settembre. probabilmente non andrà come il 2018, ma non andrà neanche così male. I flussi più o meno resteranno stabili. Ci sarà una riduzione della spesa quasi certamente, ma comunque settembre vale circa il 30% della stagione estiva ed è appena iniziato. Il dato si contestualizza in una più generale crisi che non è nata in Filippo Venezia Giulia, è una crisi nata all'estero. Di fatto la Germania è quasi in stagnazione, l'Italia ha una variazione acquisita del PIL che è pari a zero e questo ovviamente si riflette sull'andamento delle nostre imprese. Quelle che in qualche modo sembrano avere maggiore difficoltà sono quelle che operano nel territorio di Corizia, in parte anche Trieste. Udine va un po' meglio, Pordenone va un po' meglio, però oggettivamente la crisi sui territori si avverte, la riduzione dei consumi è molto forte. Presente alla conferenza stampa l'abbiamo visto anche il presidente di Confcommercio Friuli Venezia Giulia Giovanni D'Apozzo che ai nostri microfoni ha confermato l'ufficializzazione di Lucio Gomiero come nuovo amministratore unico della Fiera di Udine. Sentiamo. Parliamo di terziario, la Fiera è diciamo una struttura, un ente che si occupa principalmente di attività di promozione quindi all'interno del mondo del terziario, da qualche giorno l'amministratore unico è il dottor Gomiero che è anche presidente della struttura turistica regionale. Questo per noi è un fatto importante, devo ringraziare la regione in particolar modo l'assessore Bini che pur non essendo soci della Fiera hanno capito di questa volontà del territorio, in particolar modo della Camera come primo socio al 49% di trovare una via nuova, una via diversa rispetto al passato sappiamo che le fiere tradizionali sono in difficoltà dappertutto anche perché le nuove tecnologie mettono a disposizione degli strumenti e delle possibilità di promozione completamente nuove e quindi la Fiera nostra deve trovare pur mantenendo un presidio su quelli che sono gli appuntamenti principali una strada diversa che vada a valorizzare quelli che sono gli asset principali quindi sono gli asset ambientali per come la Fiera è strutturata e insediata ma soprattutto quelli geografici. È un percorso, non sarà un percorso breve ma penso che il dottor Gomiero in virtù delle sue capacità e delle sue esperienze possa essere la persona giusta. E a proposito di commercio e turismo ci sono novità per Friuli Doc, Nicola, è arrivata la mappa, tanto attesa. Sì, sì, sempre molto attesa per capire dove ci si potrà dirigere e che cosa si potrà gustare nella rassegna che prende il via fra pochi giorni pubblicata sul sito ufficiale di Friuli Doc Friuli-doc.it e ci fa capire quali sono le zone, lo sapevamo già però adesso è istituzionalizzata la cosa perché vediamo che c'è Piazza San Cristoforo, poi è escluso ovviamente Via Mercato Vecchio per i lavori come sapete il castello è la zona di Piazza Libertà e di Piazza Matteotti, Piazza San Giacomo e poi la grande novità è quella di Via Poscolle e anche di Via Quileia che quest'anno partecipa, poi Piazza Duomo, insomma Piazza 20 Settembre, i luoghi sono quelli classici. Se digitate sulle singole icone potete capire anche chi ci sarà e che cosa proporrà. Per noi è un po' impegnativo in questo momento però è un bel passatempo per chi lo può fare con lo smartphone. Per capire esattamente magari dove si vuole andare a mangiare cosa, si vuole assaggiare Friuli-doc che verrà inaugurato ufficialmente giovedì pomeriggio, il giorno in cui inizia anche il nuovo anno scolastico e si è parlato proprio di edilizia scolastica questa mattina in un incontro in comune tra sindacati e regione. È un tema quello dell'edilizia scolastica da tempo al centro del dibattito Nicola proprio perché dopo il passaggio delle competenze dalla provincia all'Uti i lavori si sono un po' bloccati. Esatto, sulla questione ha intervenuto Pierpaolo Roberti che è assessore come sapete alle autonomie locali della regione che ha detto che le risposte ai quesiti in materia di edilizia scolastica che i sindacati hanno posto oggi e si potranno trovare nella nuova legge di riforma delle autonomie locali, una norma già scritta che da metà settembre verrà posta al vaglio dei vari portatori di interesse. Roberti ha partecipato a un incontro appunto in comune con le rappresentanze sindacali e con il sindaco della città Pietro Fontanini. Fontanini che a proposito di lavori nelle scuole ha annunciato alcuni interventi importanti per l'ampliamento della sede del Malignani e anche per la sistemazione e l'adeguamento antisismico di alcuni edifici scolastici tra cui il Malignani stesso e poi il Marinelli. Sentiamo l'intervista raccolta da Monica Nardini. C'è qualche problema in qualche istituto qui della città però sono problemi abbastanza importanti nel senso che dobbiamo fare dei lavori radicali. Due sono gli istituti, il Malignani e il Marinelli. Stiamo vedendo adesso con risorse alcuni progetti sono già a buon punto ma i lavori dovrebbero iniziare in questi casi un po' durante la pausa natalizia e poi a giugno quando verranno chiuse le scuole. Che interventi radicali su che cosa si interverrà? Si interverrà in maniera radicale. Il Malignani ad esempio vorremmo costruire un nuovo plesso proprio di aule, un corpo importante per dare a questa scuola maggiore sicurezza perché c'è un discorso antisismico da portare avanti e poi anche dare al Malignani la possibilità di poter ospitare i corsi anche dell'Isis che è un'altra istituzione importantissima per quanto riguarda la formazione professionale. Il Marinelli ha problemi sismici e su questo dovremmo intervenire per vedere un po' di dare sicurezza a questo istituto. Il territorio comunale sono i due istituti che necessitano di interventi più urgenti o sul fronte antisismico ovviamente ce ne sono altri? Sul fronte antisismico sono tante le cose da fare perché io l'ho detto tante volte purtroppo le scuole hanno una certa età, sono state costruite negli anni 50 al maggior numero e quindi non rispettano gli attuali criteri antisismici. Il lavoro è da portare avanti un po' alla volta perché chiaro non possiamo prendere tutti i ragazzi e mandarli non sappiamo dove, dobbiamo però intervenire perché questo lo prevede anche la norma. Adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità poi saremo di nuovo assieme per proseguire con la pagina sportiva. Questo è il nostro TG, a tra poco. Siamo pronti per la pagina sportiva di questo lunedì sera, una pagina che si apre parlando di Udinese che inizia a preparare la prossima sfida di campionato, quella di sabato sera contro l'Inter a San Siro e allora andiamo a sentire da Jacopo Romeo tutte le novità. Neanche il tempo di riabituarsi dopo il lungo viaggio che Kevin Lasagna è rientrato in mattinata a Udine ed è prontamente sceso in campo per la seduta di allenamento del pomeriggio fissata per le ore 18. Era arrivato in mattinata, aveva già pranzato con la squadra e anche un po', tra virgolette, come una piacevole sorpresa si immediatamente ha messo a disposizione di Mr. Igor Tudor e del suo staff, reduce dalla parentesi felice con la nazione italiana perché sono arrivate due vittorie pesantissime in ottica qualificazione all'europeo del prossimo anno, in una delle quali nella prima gara, quella vinta in Armenia, Lasagna ha avuto anche spazio nel finale di match. Ieri per lui panchina in Finlandia, questa mattina rientra Udin e subito oggi a svolgere tutta la seduta regolarmente insieme ai compagni ed è importante per Mr. Tudor riavere il suo capitano a disposizione sin dal primo allenamento di questa settimana che porterà i bianconeri alla sfida di San Siro sabato ore 20.45 contro l'Inter, anche perché poi diversi giocatori, soprattutto i due sudamericani, Samir e De Paul, dovrebbero rientrare addirittura nella giornata di giovedì e dunque davvero in extremis per la probante sfida di sabato sera. Ha finito i suoi impegni con la nazionale anche Jens Strugger-Larsen, ieri per lui soltanto 1-0-0 con la sua Danimarca, è stato non felicissimo soprattutto nell'ottica qualificazione ma da domani anche lui dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Mr. Igor Tudor che dunque pian piano da qui a giovedì ritroverà i suoi pezzi, è chiaro che però avrà un po' un handicap tra virgolette nella preparazione di una gara già di per sé molto difficile. Allenamento il primo della settimana che arrivava dopo la domenica di riposo che ha visto la squadra lavorare dal punto di vista atletico ma anche tecnico-tattico con delle esercitazioni a tema sulla conduzione di palle, sulla precisione in cui i giocatori dovranno completare dei circuiti e poi far centro nelle porte piccole per poi spostarsi dal campo 3 al campo 2 per un focus sul possesso palla anche con delle esercitazioni e delle partitelle a tema. Domani così come per tutta la settimana si lavorerà ancora alle 18 di pomeriggio proprio per raggevolare al meglio il rientro dei nazionali che arrivassero nei vari giorni della settimana, nei prossimi giorni al mattino per permettergli di scendere subito in campo e dunque appuntamento alle 18 per capire chi ci sarà, se sarà rientrato Larsen come dovrebbe essere e si allenerà regolarmente con la squadra e per seguire passo dopo passo il lavoro dei ragazzi di Mr. Igor Tudor verso la partita contro l'Inter in attesa anche di capire se ci sarà già da subito Stefano Caca che ha vissuto la sua seconda presentazione da giocatore dell'Udinese questa volta al titolo definitivo e ancora una volta ha parlato da leader e ha fatto capire che valore aggiunto potrà essere anche in questa stagione per l'Udinese. E andiamo a sentire adesso proprio un estratto andiamo a vedere se riusciamo a recuperarlo dalla regia un piccolo estratto dell'intervista a Stefano Caca vediamo se siamo in grado di proporvelo altrimenti mentre lo prepariamo parliamo di calcio femminile parliamo di Tavagnacco ecco abbiamo recuperato Okaka allora andiamo a sentire alcune parole del giocatore bianconero a gennaio c'era una situazione difficile che tutti sapete ma soprattutto perché mancava esperienza e quando incominci dei campionati così senza esperienza la lunga la paghi quest'anno penso il direttore la prima cosa che abbia fatto ha individuato bene gli errori fatti lo scorso anno e ha messo esperienza e adesso se giri nello spogliatoio riesci a vedere uomini e riesci a vedere gente che può può darti ogni giorno qualcosa e quindi si vede anche negli allenamenti e nelle prestazioni come è stato con il Milan e come spero sia in futuro per me qua è sempre stata una casa da gennaio e l'ho sempre detto quindi la priorità era tornare qua c'era solo da aspettare perché non essendo un giocatore dell'Udinese c'erano tanti altri fattori di mezzo però l'importante è che sono qua è stato un amore a prima vista poi a giugno ho incontrato il direttore e a 30 anni incontrare una persona così che ti dà qualcosa è molto difficile perché soprattutto con la mia carriera e il mio modo di essere mi ha stupito molto e dopo che l'ho incontrato ho detto devo tornare perché è un condottiero è una persona molto umile che si fa seguire ma molto lucido e penso che per la mia carriera avere dei fuori classi così in questo momento della mia carriera avere dei fuori classi così del mestiere mi possa dare quel finale per esaudire tutti i miei sogni che non ho mai cancellato e ovviamente di Udinese continueremo a parlare questa sera nel corso del nostro Tonight assieme a Giorgia Bortolossi Maurizio Ferrari ai loro ospiti adesso parliamo di calcio femminile con il Tavagnacco che sabato esordirà contro il esordirà in trasferta a Bergamo è stata presentata la nuova squadra del Tavagnacco guidata da mister Luca Lugnan è pronta a disputare il diciannovesimo campionato consecutivo in Serie A sentiamo Presidente Moroso diciannovesima stagione consecutiva in Serie A per il Tavagnacco con quali prospettive? Beh intanto l'emozione della diciannovesima stagione in mezzo a queste grandi società che stanno arrivando essere insieme a chi del calcio ne fa un professionismo spinto e noi invece siamo professionali però abbiamo intrapreso una strada quest'anno che ci fa ben sperare per l'attività che si mette in linea con l'attività delle altre diciamo le prime cinque sappiamo che sono veramente della compagnia sono così forti e noi vogliamo essere lì dietro come sempre si parte per salvarsi e poi dopo tutto quello che arriverà in più saremo ben felici di portare i nostri tifosi alla gente che è qui vicino di portare questi risultati Devo dire che sono molto contento del gruppo di lavoro che ho trovato la preparazione è andata bene chiaramente ho dovuto un attimino modificare un po' la quantità del lavoro perché gli uomini lavorano di più con intensità diversa ma la strada è stata tracciata è quella quindi pian pianino stanno cercando di assorbire i carichi di lavoro e si stanno adeguando a questo nuovo modo di lavorare che si avvicina molto a quello degli uomini sicuramente le due giapponesi sono due calciatrici importanti per noi che sono abituati hanno una cultura del lavoro orientale e si vede vanno molto più forti delle nostre e quindi questo mi ha dato anche spunto e un motivo in più per continuare a lavorare su questa strada direi un bel gruppo di lavoro si stanno anche amalgamando bene tra loro seguono le cose che vado a proporgli per cui sono molto contento e chiudiamo con una notizia di pubblica utilità Nicola abbiamo parlato di maltempo prima esatto Angela sul sito del comune di Latisana è possibile scaricare il modulo per chiedere il risarcimento dei danni per il maltempo dell'8 settembre vedete qui avversità atmosferiche dell'8 settembre 2019 stima preliminare dei danni con la possibilità appunto entro il 27 settembre alle ore 12 attenzione scaricando il modulo apposito che trovate qui sotto a questo link di stimare quanto avete subito come danno in conseguenza dell'avversità atmosferiche grazie allora Nicola Angeli anche per quest'ultimo aggiornamento grazie a voi Angela grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e ovviamente come sempre rimanete in nostra compagnia in compagnia di Ud News TV buona serata a tutti grazie a tutti